Stanca di brufoli e brufoletti che devastano il tuo viso? Ho io la soluzione! Meravigliosa creatura, ben approdati in IREX IN THE WONDERLAND! Quest'oggi parliamo di pelle! Nel corso degli anni ho provato varie creme e cremine specifiche per la pelle mista, grassa perché io ho sempre sofferto di imperfezioni ma mai nessuna mi ha dato risultati e alla venerante età di quasi 31 anni ho finalmente risolto il problema come? Con i sieri, i sieri viso sì perché le creme o ingrassano troppo la pelle e quindi la lucidano e creano nuove imperfezioni oppure essendo specifiche per questo tipo di problematica la vanno a seccare quindi come conseguenza la tua pelle ne risente e ha degli sfoghi con i sieri invece questa cosa non accade almeno per quanto mi riguarda ho provato due sieri diversi e ho la pelle che vedi sono senza trucco, senza makeup, senza nulla proprio per farti vedere come è il mio viso al naturale e io ormai mi sveglio così da quando ho iniziato ad utilizzare il siero per primo ti voglio consigliare questo cera di cupra entrambi li trovi da acqua e sapone questo è acido ialuronico siero concentrato idrata a fondo, rassuda la pelle, efficace a spettro completo ed è questo gli ingredienti di entrambi i sieri sono buoni questo perché come ti ho detto precedentemente quindi altre volte in altri video è importantissimo che andiamo ad applicare sul nostro viso degli ingredienti che siano il più possibile naturali se vai a mettere ingredienti schifosi ti usciranno ancora più brufoli e più punti neri quindi evita anche prodotti di farmacia, creme di farmacia perché molto spesso, anche se sono di farmacia contengono ingredienti dannosi quindi petrolati, parabeni, eccetera, eccetera ti leggo tutte le caratteristiche e poi ti dico come mi sono trovata ma già hai capito che mi sono trovata benissimo è formulato con tre pesi molecolari compresi tra 50.000 e 3.000.000 di Dalton che agiscono a diversi livelli dell'epidermide svolgendo tre funzioni fondamentali acido ialuronico ad alto peso molecolare idratazione e protezione della barriera cutanea perché il siero va ad idratare senza ungere che è la cosa per le pelli miste grasse fondamentale perché altrimenti a fine giornata nella zona T ci ritroviamo con la pelle lucida acido ialuronico a medio peso molecolare aumento dell'elasticità cutanea quindi oltre a darti l'idratazione ti migliora la grana della pelle e quindi il tono di conseguenza anche le rughe vengono minimizzate infatti io qui avevo delle rughe molto più profonde quando utilizzavo la crema adesso invece la cosa è cambiata però devi calcolare che come tutte le cose ci vuole la costanza quindi questi sieri vanno applicati mattina e sera dopo la detersione quindi ti lavi il viso con un buon detergente trovi la mia skin care sul canale poi applichi il tonico e poi il siero non mettere chissà quante cose perché più cose applichi sul viso e più c'è la possibilità che si formino imperfezioni quindi tre prodotti ma buoni l'acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nell'epidermide dove grazie alla straordinaria capacità di inglobare e trattenere grandi quantità d'acqua gioca un ruolo essenziale nell'idratazione cutanea quindi è una componente che già noi abbiamo nella pelle solo che molte volte viene a mancare soprattutto con l'andare dell'età l'acido ialuronico siero concentrato cero di cupra utilizzato quotidianamente quello che già ti ho detto svolge un'azione levigante contro rughe e linee sottili aiutando a minimizzare i segni dell'invecchiamento e della disidratazione perché alla fin fine si tratta d'acqua è un'acqua concentrata bastano poche gocce per risultati sorprendenti di questo quindi il siero si presenta così io l'ho finito per farti capire che non ti mento è un barattolino in vetro di solito i sieri sono tutti così e c'è il contagocce ne metti delle gocce e massaggi fino al completo assorbimento rassoda e rimpolpa la pelle donando tono compattezza ed elasticità idrata a fondo contrastando la secchezza cutanea rinforza la barriera epidermica e fortifica la pelle rende l'incarnato più luminoso e uniforme e disteso combatti i segni della stanchezza è verissimo cioè il siero dona luminosità subito subito e questo te lo consiglio se vuoi un siero leggero perché questo è molto più leggero rispetto a quello che ti andrò a mostrare adesso passiamo ora ad un'altra marca Venus anche di questo non posso che parlarne bene io lo sto utilizzando tuttora sono arrivata a metà e questo si presenta come diciamo più crema come formulazione quello sembrava proprio più siero quindi sembra acqua perché è trasparente l'ho finito quindi non si può vedere ma era trasparente invece questo come vedi è bianco ed è una formula un po' più pesantina rispetto a questa e quindi è più ricca e adatta anche a chi ha la pelle più matura perché questo secondo me si assorbe troppo velocemente invece questo va massaggiato ed è adatto quindi a chi ha tante rughe quindi i sieri non è che sono solo per la pelle mista grassa i sieri vanno bene per tutti i tipi di pelle tutti però essendo che io ho la pelle mista grassa ti posso dire che i sieri mi hanno cambiato la vita altrimenti non ti avrei fatto il video questa è la confezione ed è filler Venus siero riparatore viso, collo e decolle perché ovviamente quando tu vai a applicare una crema che io non uso più o il siero come in questo caso non va applicato solamente sul viso ma anche qui perché anche qui si formano le rughe con micro infusioni di acido ialuronico quindi l'acido ialuronico lo troviamo in tutti i sieri c'era infatti anche in quello di prima stimola il rinnovamento cellulare ridensifica i tessuti e risveglia e illumina lo splendore del viso quindi ha le stesse caratteristiche di quello precedente però ripeto è più ricco il nuovo siero riparatore venus è un trattamento globale di giovinezza uno straordinario concentrato di principi attivi che combatte i segni visibili dell'invecchiamento la nuova formula esclusiva è arricchita con micro infusioni di acido ialuronico concentrato che potenziano l'azione degli omega 3 che si trovano anche in alcuni alimenti per un'intensa azione riparatrice il filler riparatore venus è il prodotto ideale a tutta l'età cosa ti ho detto? per ritrovare e conservare la giovinezza di viso, collo e decolletà si usa quotidianamente la sera e la mattina ti sta andando a ripetere quello che ti ho detto fino ad adesso però essendo che io ti voglio leggere i dettagli questo c'è scritto e questo ti dico giorno dopo giorno i segni visibili di invecchiamento sono attenuati e la pelle ritrova una nuova giovinezza a risveglio la pelle è subito radiosa più bella, riposata e luminosa giorno dopo giorno le arrughe appaiono visibilmente ridotte la pelle è più liscia, compatta ed elastica il viso ritrova una nuova giovinezza di questo essendo che è molto ricco ne bastano veramente poche gocce cioè io ne metto una goccia qua e una goccia qua per dirti e lo massaggio su tutto il viso e già sono a posto perché ribadisco ci vuole tanto per assorbirsi quindi si massaggia molto bene ed idrata tanto questo è come si presenta visto? è molto denso, molto cremoso e il pegajin batte quello di cera di cupra per me è molto più bello ed elegante andiamo a vedere cosa fa di notte e di giorno di notte accelera il processo di rinnovamento cellulare perché come ben sai oppure se non lo sai te lo dico durante la notte la pelle si rinnova quindi rigetta o elimina le scorie assorbite durante la giornata stimola la purificazione e la detossinazione della pelle svolge un'intensazione ribolpante e idratante di giorno invece assicura un'intensa protezione antiossidante che neutralizza i radicali liberi grazie al tocoferolo poi garantisce una perfetta ed equilibrata idratazione tutto il giorno quindi riepilocando consiglio i sieri a tutti i tipi di pelle quindi va bene anche e soprattutto per le pelli secche ma va benissimo anche per la pelle mista grassa ti sconsiglio di comprare prodotti specifici per la pelle mista grassa perché fidati non otterrai nulla e te lo dice una che mette creme da una vita l'ho sempre messo e solamente adesso mi ritrovo finalmente con una pelle che posso dire sia decente scrivi nel tuo commento se utilizzi le creme i sieri o entrambi e con quale ti trovi meglio inoltre se ti ho dato delle informazioni utili iscriviti regalami un like e condividi il video su tutti i tuoi social ed io passo e volo via